Allora, volevo ricordarvi che questa gara è brevissima perché facciamo questo venerdì come eliminatoria e il prossimo venerdì. Poi il venerdì 19 faremo una finalissima che anche quella sarà un po' che piace cantare ma soprattutto piace anche parlare e spero che lo sia anche il vostro scopo. Abbiamo delle belle voci. Questa sera di quanti concorrenti abbiamo? Buonasera, buon Natale e buon rivolto. Ciao Pietro. Sera o la finita? No, no, la foto. Dica, come andai? Andai, andai. E il polo? Il polo? E il polo la bacchia? Regalina la cantica. Oh, mi raccomando, non la mette troppo alta. Come a voi? La voglio come se, la voglio avanti. Basta. Basta. E Piero, questa sera del grande Califano, mi innamoro di te. Piero Pederni. Restata. E' un'altraichen stessa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' una portata dell'azio antica, sono tutte persone che fanno lavoro con i cani suoi. Non c'è problema, non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. C'è la camera woman. Non c'è problema, non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Non c'è problema, ma hai portato in giro per tutto il mondo. Allora, avete ascoltato Piero? Un applauso per Piero Perenzi. E continuiamo, andiamo avanti nel prossimo punto. Un altro grande parte, Max Medini. E questa sera Max ci canta la mia terra. che lei non c'è. Non c'è problema, ma hai portato in giro, richiam la tua cultura. non 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 E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, E' sempre, anche il sol che le penso, si trovasse ancora insieme, di dove sempre le penso, si trovasse ancora insieme, si trovasse ancora insieme, ma vaste ancora insieme, o ci sono risultati, sono i propri correnti del film, e quindi di che ci saranno insieme, la nostra idea è sempre avropcja, di terrafine del teriy ex, della ser perioda, del teriy ex, Grazie mille. 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 Buon applauso a Gabriele! E allora andiamo avanti! Buon applauso! Se volete passare portatevi amici, ragazzi! Guarda che io trovo l'amico, portatevi amici! Almeno che faccio la mano e passate! Sì, sì, sì! Non portatevi amici perché... Lei! Ma io porto tutti amici venerdì! Io porto un cane! E adesso cambiamo e bagniamo! E si parla vaiiii! Continuiamo con l'eseraria, grazie! E' un'eseraria normale! Abbiamo un prenotante, 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 prenotante! Te stai, Sonia! Anche un'ombo! Cos'è scelta? No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no! No, no! No, 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 no! No, no, no! No, no! Non passare! Eh, 19, Preside del Cur passa! Allora Sonia canta anche un uomo può essere dolcissimo. Allora Sonia canta anche un uomo può essere dolcissimo.